È stato fissato l'interrogatorio nei confronti delle due maestre violente di 54 e 63 anni per martedì prossimo in procura a Cassino. Spintoni, insulti, maltrattamenti. Questo il quadro ricostruito dagli inquirenti a seguito dell'operazione della polizia e della denuncia shock di un genitore che in preda alla disperazione ha riconosciuto il suo bambino di 27 mesi dalle immagini divulgate dalla polizia mentre veniva strattonato, insultato e punito e ha raccontato che il figlioletto in casa si prendeva a calci e pugni sulla testa e gridava. Tanta la rabbia, lo sconcerto delle 28 famiglie che mandavano i loro figli a scuola nella totale fiducia nell'istituzione. Una fiducia che ora andrà ricostruita nel tempo mentre le indagini per verificare altri episodi continuano per mano della polizia giudiziaria su delega della procura. L'operazione Children Revenge, portata avanti dalla polizia di Stato del commissariato di Cassino, ha fatto scattare nei confronti delle due un'esecuzione di ordinanza di misura cautelare in carcere, nonché la sospensione dell'esercizio pubblico di insegnante. I bambini della scuola in via Zamos, dai 3 ai 5 anni, erano sottoposti a punizioni umilianti e pericolose per la loro incolumità. Le maestre li ingiuriavano urlandogli contro, avvicinavano il loro viso a loro e li minacciavano, proferendo nei loro confronti frase del tipo «Ti faccio sputare io per terra, animale, ti faccio cadere tutti i denti, se fai cadere l'acqua è meglio che ti scavi la fossa, adesso vado a prendere la corda e ti lego sulla sedia». Quanto accaduto nell'asilo ci lascia tutti sgomenti e il primo pensiero va ai genitori dei bambini e ai loro figli, lo ha dichiarato il sindaco di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro. Quando noi portiamo i nostri figli a scuola lo facciamo nella convinzione che trascorreranno delle giornate all'insegna dello studio, del divertimento e della serenità e questi atti sono da condannare sempre. «Spero», dichiara ancora il sindaco, «che il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine vada avanti per consentire di lasciarsi alle spalle questa brutta storia».